Ben ritrovati a questo corso sugli script bash, siamo ormai giunti alla lezione numero 13 nella quale vogliamo parlare per un momento di parametri di input e codice di ritorno dallo script si intende. Quindi giunti a questo punto ormai abbiamo tutto a disposizione per crearci il nostro script con tutta la sua logica, con la sua interattività, con la sua tra virgolette intelligenza e volendo fare un passettino ulteriore, sempre che riteniamo utile introdurre anche questa particolarità nel nostro codice bash del nostro script, possiamo inserire o meglio includere nella logica dello script l'interpretazione, la presa in carico di parametri forniti esternamente allo script, ovvero dei parametri forniti accanto al nome dello script prima di avviarlo. Quindi possiamo anche dare dei parametri esternamente e non solo, come abbiamo visto nella lezione precedente, farceli chiedere durante l'esecuzione. Quello è un tipo di input, un tipo di richiesta di parametri, questo è un altro, è quello che a priori noi possiamo fornire uno o più parametri prima di far partire lo script. Come si fa? Quindi i parametri in entrata, chiamiamoli così, vengono o possono essere impostati dopo il nome dello script separati da uno spazio sempre nella sequenza prevista dallo script, quindi è posizionale la cosa. Se io ho previsto tre parametri per questo script, dovrò mettere il nome dello script, spazio parametro 1, spazio parametro 2, spazio parametro 3. Lo vediamo in questo esempio qua. Io ho uno script che si chiama, ma va, guarda un po', script.sh e per richiamarlo io appunto do il nome dello script, spazio valore 1, spazio valore 2, spazio valore 3. All'interno dello script questi tre valori sono identificati da variabili predefinite che abbiamo già incontrato in precedenza, i famosi dollari con il numero progressivo, quindi dollaro 1, dollaro 2, dollaro 3. Anche qui numero progressivo allineato con la posizione del parametro, quindi dollaro 1 sarà il valore 1, dollaro 2 il valore 2, dollaro 3 il valore 3. Ecco, tutto molto semplice. Il codice di ritorno, invece, è il codice di uscita dello script, perché uno script può finire bene o può finire male, e quindi avrà, quindi per difetto, se non facciamo assolutamente nulla, o ad ogni volta che uno script finisce, termina, in una variabile particolare è memorizzato il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito, ovvero l'esito positivo o meno dell'ultimo comando eseguito dello script in sequenza, il che corrisponde, se vogliamo metterlo esplicitamente nello script, al codice dato con il comando exit, quindi se noi esplicitamente nello script, ma non siamo obbligati a farlo, inseriamo un comando exit senza valore, verrà tornato per difetto il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito. Normalmente, nell'ambito bash, se il valore tornato è zero, vuol dire che è tutto ok, che è andato tutto bene, se è diverso da zero, vuol dire che c'è stato qualcosa che non va, ciò non toglie che con il comando exit noi possiamo esplicitamente farci tornare un valore che decidiamo noi, per esempio nel nostro script possiamo mettere exit 10, che è diverso da zero, però avendolo impostato a noi, magari per noi 10 vuol dire che è andato tutto benissimo, ecco, questo dipende, se decidiamo di gestirlo noi, dobbiamo poi anche coerentemente sapere come interpretare il codice di uscita, perché nello script, a seconda, a dipendenza delle condizioni che si verificano, potrebbero esserci più comandi exit, quindi in certi punti un exit per un errore, in certi altri semplicemente l'exit di fine di esecuzione dello script, quindi noi possiamo far variare questo valore, in questo caso 10, vabbè, magari con 1 errore, 2 errore, 3 tutto ok, 10 errore grave, eccetera, eccetera, come vogliamo, possiamo gestirlo noi o meno, non siamo obbligati a farlo, normalmente negli script l'exit non lo si vede se non è necessario, se non si mette nulla appunto viene tornato per difetto il valore appunto dell'esecuzione dell'ultimo comando, come lo si legge, questo valore, con il comando echo dollaro punto di domanda, ecco, un dollaro punto di domanda è, come dire, una variabile predefinita, stile dollaro 1, 2, 3, però appunto punto di domanda, si prende a carico il codice di ritorno del all exit dell'ultimo comando eseguito, ecco, quindi se noi richiamiamo uno script nel nostro terminale, richiamiamo uno script, subito dopo, senza far nient'altro, facciamo il comando, eseguiamo il comando echo dollaro punto di domanda, possiamo leggere il codice di ritorno dell'ultimo comando di quello script, a meno che noi non abbiamo esplicitamente inserito un exit con un valore, quindi ci troveremo quel valore, ecco, quindi vediamo subito con l'esempio quello che ho appena detto, l'esempio qui a fianco della lezione 13, quindi cosa fa l'esempio, quindi cerchiamo di capire cosa fa questo codice prima di eseguirlo, così vediamo cosa aspettarci, semplicemente si aspetta un parametro, ecco, vedete, un dollaro 1 vuol dire che questo script, script bash, si aspetta che alla partenza, noi accanto al nome, separato dallo spazio, mettiamo un valore che serve allo script per essere eseguito. Cosa si aspetta a questo script? Si aspetta che sia stato inserito come parametro di input, o la parola gui, gui minuscola, o gui, maiuscolo, che poi è la sigla inglese per dire interfaccia grafica, in ambito informatico, quindi se ho inserito uno di questi due valori, mi ritorno a questi tre eco a video, con su eseguo lo script con interfaccia grafica, altrimenti, then else, quindi altrimenti, se non ho scritto gui o gui, ma ho scritto cli, solo minuscolo, in questo caso lo accetto, ho scritto cli, che vuol dire interfaccia caratteri, nel mondo sempre informatico, quindi il terminale, in poche parole, quindi se ho inserito cli, mi ritornerà a questi altri eco, con su eseguo lo script con interfaccia caratteri nel terminale, altrimenti, ancora, vedete un if innestato in un altro, altrimenti, terza possibilità, non ho messo nessuno di questi parametri previsti, o addirittura nessun parametro, e mi reclama al mio script, dice che parametro di ecozione è errato o mancante, ha impostato questo, invece dovevo impostare questo, oppure questo, oppure chissà che, ecco, e se c'è l'errore, quindi in questo ultimo blocco di codice, nell'else dell'errore, imposto io, volutamente, exit 99, quindi so che se il mio screen è tornato a 99, c'è stato un errore, a parte che me lo dice con gli eco, però, vabbè, didatticamente per capire che cosa fa, quindi se lo eseguo, andiamo un po' di eseguire questo script, dunque, non do parametri, volutamente sbaglio, so già che è sbagliato, ma vediamo cosa succede, non do parametri e lui, opportunamente, mi esegue questa parte di codice qua, questa, dove mi dice che ho sbagliato, parametro di esecuzione è errato o mancante, i parametri validi sono, senza virgolette, GUI, GUI, oppure CLI, quindi, a questo punto proviamo ad usare questo comando, eco, dollaro, punto di domanda, per vedere se mi ritrovo il codice 99 che io esplicitamente ho voluto mettere all'uscita dello script con l'errore, vediamo un po', eco, dollaro, punto di domanda, enter, voilà, vedete che c'è il 99 in effetti, non è zero, quindi è successo qualcosa di sbagliato, qui ho interrogato questa variabile dollaro direttamente a terminale all'uscita dello script, ma anche all'interno dello script stesso, o se uno script ne richiama un altro e poi quest'altro script esce e ritorna al primo script richiamante, in quello script si può usare ovviamente questa stessa variabile predefinita dollaro, punto di domanda, per interrogare come è andato quello script richiamato, insomma, ecco, ci siamo capiti, quindi qua, appena uscito dallo script, ho questo valore a disposizione, è chiaro che se nel frattempo eseguo un altro comando, naturalmente questo valore viene sovrascritto, quindi è per quello che è importante farlo subito all'uscita dello script. Adesso proviamo a rieseguire il nostro script, però, dandogli un parametro che è previsto, in questo caso, cli, che è previsto qua, cli, dovrebbe essere accettato a questo punto. ed ecco che mi dice eseguo lo script con l'interfaccia caratteri, perché è proprio quello che si aspetta, quindi il nostro dollaro 1 posizionalmente ha preso in carico il valore cli, è uguale a cli, sì, e quindi eseguo lo script con l'interfaccia caratteri. Poi l'else non entra perché non è il caso e finisce, finisce senza, lo script finisce questa volta, qua, senza aver messo un exit specifico, quindi mi torna come valore di ritorno di questo script il valore dell'ultimo comando eseguito, che verosimilmente sarà questo echo qui, quindi sarà andato bene. Io mi aspetto che se interrogo il mio, la mia variabile predefinita, dollaro, punti domanda, ho lo zero, ecco perché è andato tutto a meraviglia. Ecco, tutto qua. Quindi se vogliamo dare uno strato esterno, diciamo così, al nostro script con dei parametri di partenza, avete visto che è facilissimo farlo, eh? Basta mettere i parametri uno in fila all'altro e dentro, nello script, possiamo interrogare questi parametri con le variabili predefiniti dollaro, con un progressivo 1, 2, 3, 4, per quanti sono. Voilà. Per questa lezione direi che è tutto. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi attendo alla prossima lezione. Un saluto, ciao ciao.